Queste immagini, l'incontro dopo giorni, settimane di lontananza, hanno fatto il giro del mondo. L'incontro tra pazienti covid e i loro familiari presto si concretizzerà anche all'ospedale di Pistoia. ASL, direzione del San Jacopo, società della salute, stanno infatti lavorando per attivare entro Natale quella che sarà definita la stanza degli abbracci. Il rapporto con i propri affetti può portare a dare quella spinta emotiva e a uscire magari da quel senso di sofferenza e di depressione che lo stare in questo caso in isolamento può determinare. Quindi l'incontro fisico, l'abbraccio tra virgolette ha un valore non simbolico in quanto tale ma ha anche e soprattutto un valore terapeutico oltre che affettivo. Ancora non sono state delineate le modalità di incontro tra pazienti e parenti ma anche il solo potersi ritrovare sarà sicuramente un momento di gioia, un inatteso dono di Natale. Ovviamente sarà la direzione a decidere tempi, modalità e comunque sia come costruire il percorso. Quello che è importante è che siamo tutti sulla stessa linea di pensiero per quanto riguarda l'importanza dell'incontro tra pazienti e familiari. E questo ovviamente è un percorso che deve essere anche rivalutato all'interno dell'RSA laddove comunque sia ci sono persone in fragilità sia per la malattia sia per quanto riguarda la situazione del Covid e come dicevo anche per le altre patologie perché è importantissimo che il malato sia preso in carico sotto tutti gli aspetti.